Ehi tu, se non l'hai già fatto iscriviti al canale e attiva la campanella Ciao Ruttofeli, questo è un video diverso dal solito, oggi sperimenteremo i rutti a 360 gradi Cosa significa? Che potete andare avanti, indietro, muovere il cellulare all'altra sinistra Potete tornare indietro e vedere la reazione della gente intorno a me praticamente Facciamo un test Vedete la gente, avete visto? Grazie, grazie Bene, siete i primi a partecipare a questo video a 360 gradi, rutti a 360 gradi sulla gente Siamo qua al Modena Nerd oggi, domenica, è bellissimo ragazzi, c'è tantissima gente, tantissimi spettacoli Insomma, facciamo questo esperimento, spero che questo video vi piace E se vi è piaciuto scrivetelo nei commenti e ne farò altri, bene, possiamo cominciare Allora, direi che, da solito faccio vedere il palco Faccio il palco degli spettacoli, non so se l'avete visto Bella! Saluta, saluta, sei la prima Davvero? Del primo, degli rutti a 360 gradi sulla gente Buon forma, quindi sei contento? Fantastica, perché ti si guarda questa? Bella! Mi raccomando, vedete la gente come ride, come si diverte Mi raccomando, tenete sempre la mascherina Adesso io entrerò dentro, metterò la mascherina Quindi, ce ne vedi chi uno? Ce ne vedi chi uno? Ma certo! Grazie, grazie, grazie Rutti a 360 gradi sulla gente Quindi, senti secondi partecipanti La ragazza è stata la prima Bene, va bene Sono contentissimo Mi fa il tuo favore enorme Mi vengo a mettermi piace con 7 account Bella, lì Grande, lì Quasi sono degli applaudi, ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Siete tutti, potete tutti vedere su questa 360 gradi Rutti a 360 gradi sulla gente Quindi potete vedere Comunque, niente, possiamo andare dentro Qua c'è il palco, ragazzi Qua c'è la gente che ha tanto good vibes E basta Quindi, andiamo dentro e vediamo Buon appetito Meraviglia, c'è un clown Bene, andiamo dentro, ragazzi Ah Ma c'è Oh, Rutti a 360 gradi sulla gente Il collo, il club, lo potete vedere a 360 gradi Bene Bene, ragazzi Siamo qua con noi centrale Adesso andiamo un po' a fare un giro Dai, andiamo allo stand numero B No, al numero A Ah Ma comunque, ragazzi Questo è veramente Un nuovo tipo di video che sto facendo È un esperimento questo Ok, siamo dentro lo stand Per vedere Insomma Tante belle cose Un pedolino Oh, la pasticceria I waffle Vi piacciono i waffle Almeno mi piacciono tantissimo Guarda, guardate i waffle Vi piacciono i waffle, ragazzi Ciao, cagnone Comunico con lui Eh, ragazzi Questa è veramente Molto strana Poi, vedete Tutte le facce delle persone Intorno, vedete Oh, la deloria, ragazzi Grande Giove Guardate Grande Giove La deloria Grande Giove Ragazzi La deloria Mi piace la deloria Ma certo Siete Sono Ruti a 360 gradi Sulla gente Quante belle la deloria È vero Sì Sì Spero di Spero di Spero di 80 milioni Ah Ragazzi Ciao Ah, ragazzi Bellissimo Ci sono i gamer Andiamo di qua Andiamo di qua E ovviamente Non può mancare Lo stand I miei compari Ci sono qua Guardate Alle 4 Ci sono un pettacolo E' lo Dio E' lo Dio E' lo Andiamo un po' in giro Dai Facendo un esperimento Ruti a 360 gradi Sono gente Mi raccomando Ragazzi Tenete sempre La mascherina Anche perché C'è tanta 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 Gente Oggi E' importante Ragazzi Proteggersi Dal Covid Insomma Qua è una figata Ragazzi Io vi consiglio Sempre di venire In Modena Mer Perché ogni anno È sempre Un'emozione Unica Comunque Oggi C'è molto caldo Molto 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 Caldo Stai sudando Sempre i cammini Oh Ma che c'è qua Sei numero uno È numero uno Sesto Non carpeta 360 gradi Scara Chiamano Ah, perfetto! Ah, perfetto! Ah, perfetto! Quintanino! Allora ragazzi facciamo l'ultimo giretto, direi di andare, torniamo fuori dai. Anche tu sarai sul mio format, rock'n'roll. Ciao ragazzi, avete visto la gente come si gira? Ruth, sono lì, spadano. Baby. Oh grande, te l'hai riconosciuto? Grande Enrico Salza è qua con me! E' partecipato al tuo video con la maschera nuova, sei grande. Come stai? Oggi è perchè sono ancora amorosa, allora faccio quello. Oh, questo è il loro ragazzo, questo è il loro ragazzo. Te l'ho riconosciuto tutti. Vabbè, posso. Bisogna di cacciare un gruppo spersonico. Sì, ci becchiamo... Quando vuoi, sai che sono sempre disponibile. Lo spider deve essere più bello, cazzo. Sì, lo so, lo so. Infatti non devo volerlo, è la nostra sfida. Voglio ruttarti, infamarti, ma non ha meno altra possibilità, ottimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti e ne farò per gli altri molto volentieri. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella perchè vi vedremo sempre tornati sull'unità. Vi direi che vi posso salutare... Cavabucca! Parlo di te che sei maleducato. Tengo una birra tra le dita. Tutto tra i dita. Camminando.